20 giorni che aspettiamo le mascherine, le mascherine, la mascherina. Ieri la professione civile di Roma ha portato questi stracci qua, vedi i stracci qua? Che adesso noi in effetti non è che li buttiamo via, perché li usiamo per togliere la polvere, nel senso che c'è mucchi di polvere e cose. Questo qui è quello che noi dovremmo dare al nostro personale, ai vigili e al nostro personale dei servizi sociali affinché possano svolgere il loro lavoro. Questo qui è lo straccio che ci hanno mandato, lo vedete qua? Giustamente non facciamo commenti, la situazione è quella che è. In bocca al lupo a tutti, venitemi a trovare, io sono qua, sono sempre qua, se avete bisogno di stracci, venite che me ne do qualcuno.